Cesenatico si avvicina ad agosto, mese del turismo per eccellenza, con decine di migliaia di persone che si riversano nella città balneare e dovrà farlo senza i rinforzi che ogni anno arrivano dalla polizia. La centrale estiva, aperta ogni estate, fin dagli anni 80 questa volta rimarrà chiusa. Questa almeno l'opinione del sindaco Gottoli che pare ormai aver perso ogni speranza. Pochi giorni fa il Consiglio Comunale aveva spedito una lettera al Governo per chiedere di prendere provvedimenti. Le risposte non sono mai arrivate. Le notizie non sono più pervenute né da parte del Ministero né da parte degli altri organi dello Stato. Io credo, come tanti altri miei colleghi della costa, che quest'anno purtroppo i rinforzi estivi non arriveranno. Mi auguro che ci si possa ancora ripensare, anche se credo che ormai i tempi non ci siano più per questo tipo di attivazione. E direi che i problemi non mancano. Tanti sono gli episodi preoccupanti avvenuti nelle ultime settimane. A cominciare dalla maxirissa in Piazza Costa, finita coltellate, arrivando fino all'incendio alla giostra di lunedì notte. Le immagini delle telecamere installate proprio poco tempo fa dal Comune raccontano che è stato un uomo solo, a volto coperto ad appiccare le fiamme. Sul fatto indagano i carabinieri. È un gesto di una gravità enorme, fatto nel cuore del nostro borgo marinaro. A pochi centimetri da edifici storici di valore importante, dalla statua di Garibaldi, da abitazioni, dal porto canale. Quindi spero che i colpevoli vengano individuati al più presto perché Cesenatico non merita atti di questo tipo.